Anche quest'anno Legambiente ha stilato la classifica dei comuni ricicloni, premiando i centri più virtuosi nell'attuare la raccolta differenziata. La premiazione si è svolta a Roma, giovedì 14 luglio, e ha visto nelle prime 100 posizioni 59 comuni veneti e 33 comuni trentini. Sono invece assenti le grandi città. Le tre regioni più virtuose sono Veneto, con il 65,6%, Friuli-Venezia-Giulia, 34,2% e Trentino-Alto-Adice, 28,3%. Il comune di Pordenone, con il 78% di raccolta differenziata, supera Verbagna e raggiunge quest'anno la vetta della classifica dei capoluoghi di provincia ricicloni. L'assessore comunale all'ambiente Nicola Conficoni. Pordenone, comune capoluogo riciclone 2011, è un risultato di cui andare orgogliosi, che ci riempie di soddisfazione. Il riconoscimento ricevuto a Roma da Legambiente è il coronamento di un percorso avviato negli ultimi anni dall'amministrazione comunale, che ha visto la raccolta differenziata passare dal 2008 ad oggi dal 30 al 77%. Se questo è stato possibile, senza dubbio lo dobbiamo alla decisione di introdurre la raccolta porta a porta del rifiuto secco residuo, ma anche grazie all'organizzazione del servizio da parte di GEA e soprattutto grazie alla collaborazione dei cittadini, che hanno compreso come solo cambiando le loro abitudini fosse possibile conseguire importanti benefici sia di carattere ambientale che di carattere economico.